Ben ritrovati a tutti amici di Rubrica Rosso Nera. Dopo aver parlato di mercato in uscita, ora parliamo di mercato in entrata e delle ultime breaking news. Parliamo di mercato in entrata perché il Milan, dopo aver vinto contro il Torino, l'area tecnica rosso nera incontrerà a giorni, saranno giorni caldi per il Milan perché la dirigenza rosso nera incontrerà molti agenti, molti direttori sportivi per fare il punto sul calcio mercato. Il Milan incontrerà il procuratore di Ciaranoglu, Gordon Stipic, c'è ottimismo, si pensa, si crede che il Milan possa rinnovare il contratto con il talento turco per una cifra intorno ai 4 milioni e mezzo. Lo considero un mercato in entrata perché la permanenza di Ciaranoglu sarebbe una permanenza molto molto importante. Parliamo di mercato in entrata vero e proprio perché il Milan sarebbe molto vicino, secondo le nostre fonti, a Meite. Meite centrodampista in forza al Torino, giocatore che non rientra nei piani probabilmente più di Giampaolo, che Giampaolo preferisce giocatori tecnici, giocatori qualitativi in mezzo al campo. Quindi sta preferendo l'Inetti, sta preferendo giocatori come Segre e quindi per il Milan potrebbe rappresentare un'opportunità di calcio mercato importante perché il Torino potrebbe lasciare Meite in prestito con diritto di riscatto, un prestito oneroso. Si parla di un prestito di un milione, un milione e mezzo da qui a fine giugno. Quindi per il Milan potrebbe per un milione e mezzo portarsi a casa un centrodampista fisico, che potrebbe essere il vice che sì e potrebbe essere un giocatore importante nella rotazione dei cambi, nel turnover di Mr. Pioli. Sembra molto vicino, addirittura alcuni parlano che la trattativa possa andare in porto già prima della partita, ancora una volta col Torino, questa volta di Coppa Italia. Quindi Meite potrebbe essere presto il centrodampista rosso-nero, potrebbe essere presto l'alter ego di Frank Kessie. Un altro giocatore in entrata che potrebbe arrivare al Milan nelle prossime settimane è sempre lui, Mohamed Simakhan. Interessa moltissimo la dirigenza rosso-nera. Ripeto, non è una frecciata nei confronti dei colleghi, ma molti colleghi riportavano. Già la notizia fatta, già che il giocatore fosse acquistato, avevo chiesto calma nel mio video perché sapevo dell'interesse concreto da parte dell'Ipsia. L'Ipsia che è ancora forte sul calciatore, interessa moltissimo, si mancano la dirigenza tedesca e sta facendo di tutto per convincere il giocatore e lo Strasburgo ad accettare la pista, la squadra tedesca. Il Milan sta provando di tutto, sta cercando di limare la trattativa con lo Strasburgo, ma lo Strasburgo non scende e continua a chiedere, vista anche la concorrenza, vista anche l'asta che si sta creando, continua a chiedere 20 milioni per il giocatore. Il Milan dal canto suo ha già l'ok, ha già l'accordo con il calciatore, ma sappiamo come, magari con un rilancio economico dell'Ipsia, possa pendere la decisione su questo punto di vista e quindi sull'Ipsia, anche perché l'Ipsia, come il Milan, valorizza molto i giovani. Quindi una trattativa difficile, una trattativa molto difficile per quella per Simacan. Il Milan è molto interessato perché Simacan, adetta di grandi e addetti lavori, rappresenta veramente un profilo, un talento su cui investire, perché il Milan si porterebbe a casa un grande difensore del futuro, un giocatore molto forte fisicamente, molto abile tecnicamente, forte in marcatura, un giocatore anche con la percentuale di passaggi come difensore più alta in tutta la Liga. Quindi il Milan ci ha visto lungo, ci ha visto lungo Moncadà, il capo scout dell'area rossonera che ben conosce il campionato francese. Il mercato in uscita, come abbiamo detto nel video, consigliamo di vederlo, vede alcuni giocatori. Il mercato in entrata ad oggi, al 10 gennaio 2021, vede due interesse, due giocatori su cui Milan sta lavorando, ovvero Meite e Simacan. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.